Chiedono di riunirsi con i piccoli che non vedono da oltre un mese. Sono i genitori dei due fratellini di 18 mesi e il lattante di 3 che erano risultati positivi al coronavirus e immediatamente ricoverati all'ospedale di Cristina di Palermo, dove sono rimasti per le cure del caso. Adesso sono guariti, ma non possono ritornare a casa dai genitori, il cui nucleo familiare composto da sei persone ne aveva contagiato cinque, risultate positive ai controlli. Il motivo della mancata ricongiunzione familiare è il ritardo del terzo tampone di controllo che non è stato ancora effettuato sui genitori. I primi due controlli infatti sono risultati negativi, l'ultimo dei quali comunicato martedì scorso, ma adesso si attende il terzo che dovrebbe definitivamente allontanare il pericolo. Il padre dei piccoli ha chiesto al sindaco di Bagheria Filippo Tripoli e al responsabile dell'unità operativa di prevenzione territoriale dell'ASP Marcello Scalici, che si sono dimostrati disponibili, di accelerare l'effettuazione del terzo controllo in maniera tale che i bambini possano ritornare a casa. Fino ad ora i genitori hanno visto i loro figli soltanto attraverso la telecamera di un cellulare. Attualmente i piccoli, dopo le dimissioni dall'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo, sono stati affidati alla nonna materna e alla cognata del padre che vive a Villa Abate. Per i genitori dei due bambini continuare la quarantena non è un problema, ma almeno desiderano riunirsi tutti insieme e la mamma riprendere ad allattare il più piccolo.